La stella torna a brillare nel cielo di Taranto. È stata inaugurata ufficialmente il 14 dicembre Motoria Mercedes-Benz. Un party raffinato ed elegante, in tema natalizio, ha fatto da cornice ad un parterre di invitati d'eccezione, autorità politiche ed istituzionali, professionisti e rappresentanti del mondo dell'imprenditoria. Davvero un atto di coraggio e di amore nei confronti di questa città, in momenti difficili che viviamo, puntare con una scommessa di qualità, un esempio per gli altri imprenditori tarantini a non mollare e a puntare, ripeto, sul nostro territorio. Noi abbiamo una partnership ormai molto consolidata con Mercedes-Benz, siamo presenti a Trani, Bari, Matera e ovviamente nel territorio di Taranto abbiamo maturato negli anni tanti clienti. Era doveroso da parte nostra fare questo investimento nel rispetto dei clienti per offrirgli anche una comodità e un servizio migliore. Una bella serata all'insegna dello stile e dell'eleganza, un modo per festeggiare una realtà che ritorna in questa sede è la stella di Mercedes-Benz che da Stoccarda brilla anche a Taranto. La stella di Mercedes che brilla in tutto il mondo doveva brillare anche a Taranto, tornare a brillare. Noi con questa struttura e come ho già detto con i servizi e fra l'altro anche con un'importantissima esposizione, parco usato anche di altre marche per dare la possibilità a tutti gli utenti di Taranto e della provincia di ottenere i nostri servizi. Dottore Emanuele Di Palma, direttore generale della BCC di San Marzano di San Giuseppe, un momento difficile che vive l'economia ionica, però certamente certe realtà oltre ad essere di grande pregio, di grande lustro, danno una boccata d'ossigeno a un'economia che si sforza parecchio. Possiamo dire che pur si muove questa struttura che era già una concessionaria, ritorna a vivere in questo momento con un marchio di prestigio come il marchio Mercedes, ma la cosa ancora più importante è che un imprenditore del calibro di Maldarizzi abbia voluto investire e impegnarsi nella nostra città. Non era una cosa facile, non era una cosa sola. Un atto di coraggio. Un atto di grande coraggio perché Taranto, come concessionaria Mercedes, era priva da parecchio tempo. Quindi un nuovo investimento, un nuovo impegno certamente troverà noi, ma tanti altri imprenditori come noi, pronti a dargli una mano. La BCC da lungo tempo è vicina a queste realtà, a queste iniziative che servono a promuovere il territorio. Sì, ne vorremmo vedere molte di più perché il giorno in cui si taglia un nastro di inaugurazione per noi è un successo, è una storia nuova che inizia, è nuova gente che lavora, immaginiamo quanta gente potrà lavorare sia direttamente che indirettamente. Speriamo veramente che di serate come queste ce ne siano molte altre a Taranto. Un osprone, un monito anche agli imprenditori tarantini affinché non si lasciano andare ma afferrino il coraggio e cerchino di, ripeto, di creare economia. Sì, la forza veramente è della imitazione. Uno spirito di emulazione positivo? Assolutamente sì, mi auguro che gli imprenditori tarantini possano ovviamente prendere spunto visto che ne hanno già le capacità dalla volontà di investire. Questo è un primo momento e spero che ne seguano tanti altri. L'Avvocato Giovanni Gugliotti, presidente della provincia di Taranto, la sua presenza qui a voler rendere omaggio ad una realtà produttiva che ha voluto scommettere su Taranto. Assolutamente sì, siamo davvero contenti che un gruppo importante come il gruppo Maldarizzi abbia deciso di investire qui nel nostro territorio. Credo che sia un momento di gioia positivo per tutti quanti perché se delle grosse realtà imprenditoriali decidono di venire qui a Taranto è perché forse il vento sta cambiando, forse veramente sta ritornando Taranto ad avere un certo appeal e speriamo che sempre più persone, più imprenditori soprattutto, decidano di investire sulla nostra Taranto. Il ruolo dell'ente provincia a supporto delle realtà imprenditoriali Tarantine e non che puntano sull'area Ionica. La provincia deve avere, come ho detto in più circostanze, soprattutto un ruolo di coordinamento, un ruolo di coordinamento rispetto a tutta una serie di iniziative del mondo imprenditoriale e soprattutto deve farsi parte promotrice di un'intesa, un'intesa quanto più abbia possibile fra le diverse istituzioni perché dico sempre, noi pubblici amministratori dobbiamo creare le condizioni per lo sviluppo, le condizioni per gli investimenti.